La nuova generazione del genio, cerchiamo un pericoloso fugitino, non è un comune anarchico, ma un devoto al soppersivo ordine genio. Guarda lì, una spada laser. Sono stato solo per tanto tempo, spaventato, dobbiamo scoprire chi fossi, cosa fossi. Non sei solo, ora non più. Ehi, BD1, sono caldo. Togli il tuo laser dal mio braccio. Adesso è ora di scoprire chi sono davvero. Non morirei per un paio discosso di ragazza. Mary, giusto? Ho passato, aspettando di vendicare le mie sorelle. So che cosa vuol dire perdere tutto. Sorelle della notte, i Jedi, di solito non viaggiano insieme, ma siamo sovrappressuti, dobbiamo adattarci. Il destino dell'ordine Jedi è riposto nelle tue mani. La vita ha questo buffalotto di obbligarti a percorrere il tuo sentiero. Il destino dell'ordine 66. Ogni media è pronta, in lato scuro. Possiamo creare qualcosa di diverso, qualcosa di vero. Sir, ti gradirà. Non puoi fermare. Grazie Antonio, ora sono più forti. Il fallimento non è la fine, amico mio. È una tappa fondamentale del Carmina. La speranza sopra di per sempre il colore che continua a combattere. Non dimenticherò mai un eroe i tuoi segnamenti, il tuo sentimento. Per diritto del Consiglio, Cal Kestis, sordi, cavaliere. Andiamo a diventare, fidati, sono della forza. E ora dove si va? E ora dove si va?